tra un po' c'è il controllo timbro mi rimane sulla destra non vedo come sei andato qua eccola in fondo controllo timbro inizia il prato sulla destra c'è controllo timbro eccola in fondo aveva peccato Claudio ma in quanto si sono persi? 39 allora bisogna aspettare bisogna far passare gli altri ciao aspetta aspetta